A 37 anni dalla morte è ancora vivo il ricordo di Don Carmelo di Bartolo, il fondatore dello scoutismo licatese, ieri è stato ricordato con il trasporto di sempre. Organizzato dalla Masci, movimento scout adulti cattolici italiani, alle 8.30 i gruppi scout si sono radunati in piazza Sant'Angelo per poi alle 9 recarsi al cimitero nel monumento funebre di Don Carmelo di Bartolo. E' praticamente il sacerdote che portò a Licata la novità dello scoutismo iniziando con tante difficoltà, con poche persone e dopo tanti anni, anche a distanza dalla sua scomparsa, lo scoutismo a Licata è una realtà. ha preso piede, dopo il primo gruppo dell'Icata 1, sorto qui alla chiesa del Salvatore, sono nati altri gruppi. Si vede che i giovani credono in questa realtà che noi riteniamo sia una realtà sana. Dopo tanti anni lo scoutismo a Licata è ancora vivo, mantenendo alti valori di un tempo. Don Carmelo di Bartolo, fondatore del gruppo scout a Gesci Licata 1, ma naturalmente papà di tutto lo scoutismo licatese. Don Di Bartolo è papà di tutti i gruppi scout, compreso il nostro adulto di Licata. Passano gli anni, ma per i gruppi scout di Licata rimane forte l'attaccamento nei confronti di un sacerdote che con il suo impegno e sacrificio è riuscito a trasmettere a centinaia di giovani messaggi fondamentali, diventati poi cardini dei vari gruppi scout.